E' proprio una bella festa, ci sono tantissimi tifosi e questo è bellissimo, è il motivo per cui siamo qua, per festeggiare comunque la fine del giro, un giro comunque è andato benissimo per me e quindi è ovvio che siamo qua col sorriso sulle labbra e pronti a fare questo criterium e cercare di onorare come sempre ogni colpo di pedale.